ciao salvatore il tuo camerettaio di fiducia oggi ti presento in sventi da questa splendida cameretta in stile shabby shabby color si chiama ricordati shabby color la versione è sempre con la cabina armata di grandi dimensioni anta con la doppia attraversa centrale maniglia cromata cabina armadio compresa di cassettiera interna quattro bastoni appendiabili tappetino per farti vedere la dimensione ci entro e allargo completamente le braccia due metri e 30 d'altezza compreso 10 masi due elementi laterali sempre che ti permettono di avere ancora più spazio ancora più spazio armadio terminale letto imbottito testata a forte spessore vedi il letto imbottito ricordate di essere sempre a forte spessore e soprattutto deve essere morbido questa è la caratteristica principale del letto imbottito passiamo alla scrivania ti faccio vedere questa cameretta che ha una scrivania veramente particolare scrittoio col piedi a spillo portagioie alzata con portagioie mensole elemento rasista elemento aggiorno elemento libreria quindi una vera e propria composizione una parete attrezzata con la scrivania beh l'amenso la libreria sopra lei con 2650 euro ti arriva tutta quanta a casa tu piccolo contributo di trasporto 2650 euro tutta la cameretta così come la vedi si letto a forte spessore imbottito una piazza in mezzo cabina armata due elementi laterali terminale libreria scrivania sedia portagioie tante tante cose vieni a vedere a via negozi di mia zona delle punte ce l'abbiamo una sola ricorda se la vuoi venire a vedere stai sposta al negozi di mia zona delle punte il primo che viene di escire dal caparra si la fa ciao salvatore e tuo cameretta io di fiducia